Andiamo adesso nella parte più operativa e vediamo proprio quali sono i certificati della settimana a partire dal primo prodotto che ci proponi Riccardo che è una Cash Collette Worst con effetto memoria autocollable su un paniere composto e un paniere, eccolo qui, lo possiamo vedere attraverso la nostra scheda grafica che fa riferimento proprio agli indici Esatto, allora il nome commerciale è un po' troppo lungo, tant'è vero che non entra nella stessa righetta quindi interrompiamo a composto, uno dice composto da cosa? Quindi lasciamo anche un po' di suspense, l'ho detto un po' in italiano, inglese, un po' di suspense Allora, intanto diamo il codice ISIN, l'hai già detto, però si vede comunque in sovraimpressione un DE000HC63J38 perché lo ripeto, è un prodotto di nuovissima emissione è partito in quotazione proprio ieri e al momento quota sotto la pari in acquista 97,56 quali sono le caratteristiche quali del paniere? Hai evidenziato benissimo il paniere in precedenza Valentina spostandoti nella parte in basso si vede fondamentalmente quello che sono i sottostanti su cui è scritto quindi abbiamo indici, quindi Fuzzi 100, Fuzzi Mib, Nasdaq 100 e Nikkei e tanto si vede come un prodotto del genere per quella che è la sua costruzione permette fondamentalmente di smussare la volatilità anziché essere scritto su singoli titoli, è scritto appunto su una serie di indici l'indice ovviamente è meno volatile di una single stock tale per cui chi fondamentalmente volesse acquistare un prodotto del genere o comunque acquistare un certificate ma non si sente o comunque non è in grado di sopportare la volatilità della single stock ecco che l'emittente, in questo caso noi Comuni Credit abbiamo strutturato una serie di prodotti compagneri indici quali sono le caratteristiche? È un prodotto che ha intanto una scadenza a due anni aprile 2025, paga un coupon condizionato alla barriera di 0,50 quindi per chi dovesse tenerlo in portafoglio per 12 mesi avrebbe un rendimento del 6% è un coupon condizionato alla barriera ma è una barriera che posta al 50% dei fixing iniziali cosa significa 50%? 50% significa che questo prodotto è in grado di assorbire un calo di mercato di quello appunto un drawdown del 50% sugli indici e parlare un 50% sugli indici per esempio sul Fuzzimib equivale a dire andare a raggiungere una barriera a 13.936 punti credo, non vorrei sbagliarmi, ma siamo anche al di sotto dei minimi toccati durante il Covid quindi questo fa capire come un prodotto del genere è comunque un prodotto più difensivo e più protettivo da tenere in portafoglio quali sono le caratteristiche? Allora, come dicevamo, visto che la clientela ricerca strutture con premi fissi oppure con memoria, in questo caso abbiamo aggiunto quello che è l'effetto memoria come funziona l'effetto memoria? Allora, abbiamo detto che il coupon è un coupon condizionato cioè significa che il coupon viene pagato alle date di osservazioni che sono date di osservazioni mensili quindi a partire da maggio se tutti i sottostanti si trovano al di sopra di quello che è il loro valore barriera qualora però uno dei sottostanti dovesse trovarsi al di sotto del valore barriera il prodotto non pagherebbe cedola quindi abbastanza semplice la cedola però non viene persa viene messa in un cassettino e alla data di osservazione successiva o alle date di osservazione successiva queste cedole o tutte le cedole non pagate potranno essere recuperate appunto qualora il sottostanti il peggiore oppure tutti i sottostanti dovessero trovarsi al di sopra della si chiama trigger cedola o barriera in questo caso coincidono notiamo come Valentina questa struttura sia una struttura adatta o comunque idonea a chi vuole tendenzialmente un prodotto che possa permettere di incassare un rendimento diciamo quasi costante perché in questo caso un ribasso del 50% degli indici significerebbe un vero e proprio drawdown del mercato azionario quindi potremmo dire anche una crisi abbastanza profonda quindi diciamo quasi un rendimento senza preoccuparsi dell'andamento dei sottostanti perché la barriera è molto molto profonda un rendimento che ovviamente non è esplosivo perché parliamo di uno 0,50 mensile però ovviamente dobbiamo ricordarci che è scritto su quattro indici quindi ovviamente c'è sempre il rapporto rischio rendimento da dover tenere presente se tu potessi andare nella parte in basso della pagina così facciamo vedere anche Valentina un po' alla clientela ecco la sezione download nella sezione download cliccando sul primo link che si chiama brochure ti dovrebbe comparire un pdf che è sempre consultabile dalla clientela che praticamente ha ad oggetto tutta l'emissione allora noi abbiamo parlato ora lo ricordiamo sempre questi non sono consigli per gli acquisti ma sono fondamentalmente una spiegazione del funzionamento dei prodotti certo questa brochure la parte iniziale quindi a pagina 1 ha cosa? ha la descrizione riporta la descrizione quelli che sono il meccanismo il funzionamento del prodotto nella parte in basso una tabellina con le date diciamo principali le date salienti di quelli che sono appunto diciamo le date da tenere in considerazione per il prodotto e nella parte in basso ulteriormente quindi pagina 2 tutti quelli che sono i panieri su cui noi abbiamo strutturato come vedrai ci sono una serie di panieri su indici e una serie di panieri su azioni noi abbiamo strutturato tendenzialmente un 50% su indici come barriera di protezione e un 40% su azioni perché questo? perché come vedi già avendo una barriera al 50% sugli indici il rendimento è abbastanza risicato se avessimo ridotto ulteriormente la barriera al 40% di conseguenza anche il rendimento sarebbe diminuito quindi dobbiamo il ruolo dell'emittente è sempre fare una serie di prove una serie di tentativi per cercare di trovare il giusto rapporto il giusto equilibrio per far sì di creare di listare sul mercato un prodotto che sia interessante per la clientina ricordo ovviamente l'ultima cosa Valentina che questo è un prodotto che è listato sul Certix quindi sul segmento dell'euro TLX legato al modo dei certificati e quindi dove noi anche in qualità di market maker garantiamo la liquidità del prodotto quindi insomma per chi volesse acquistarlo o comunque compravenderlo durante tutte le giornate di contrattazione sa che essendoci un market maker può farlo nel momento più opportuno in cui lo ritiene più utile chiarissimo interessante molto ecco questa brochure un prontuario insomma una cassetta degli attrezzi la possiamo definire così per sapere esattamente come funzionano i meccanismi di funzionamento del certificato per poter poi sfruttare al meglio anche questi strumenti ovviamente è disponibile per tutti i prodotti giusto? è disponibile per tutti i prodotti esatto benissimo allora io direi Riccardo passiamo a quello successivo perché ne abbiamo tanti oggi da analizzare questo è invece un cash collector world stove auto callable su un altro paniere di azioni vediamo eccolo qua da che cosa è composto e ci riferiamo al settore bancario sempre grande protagonista di queste settimane dei mercati sì grande protagonista anche perché come dicevi in precedenza ci sono le trimestrali quindi legate al settore bancario e allora sicuramente questo è un settore bancario poi domestico nel senso che i sottostanti sono banco BPM in realtà BMP non è proprio così domestico però ha una grande presenza cugini francesi però ha una grande presenza in Italia fine in Cobenck è intesa San Paolo è un prodotto leggermente diverso dal precedente nel senso che questo è un prodotto come vedrai nella parte centrale paga è scritto paga una tipologia di cedola che è una maxi cedola iniziale cosa significa Valentina significa che questo prodotto la prima data di osservazione di giugno 2023 e lo vediamo nella seconda colonna c'è scritto proprio data di osservazione 15 giugno 2023 esatto pagherà un coupon del 15% se tutti i sottostanti si troveranno al di sopra del loro valore barriera che posta al 60% in questo caso per dirne una qual è il 60% di intesa San Paolo è 1,35 se vai nella parte in basso della paginetta dove ci sono tutti i sottostanti quindi la tabellina con i sottostanti potremmo vedere quelli che sono gli strike fixing iniziale e le barriere qual è la caratteristica del prodotto per quale scopo nasce nasce intanto con lo scopo di permettere al cliente di incassare un coupon un po' più consistente inizialmente quindi un coupon più grande del 15% in questo caso condizionato e successivamente però dei proventi o dei coupon incondizionati quindi questa è un mix di strutture quindi il cliente che vuole diciamo per giugno incassare una rendita che sia una rendita consistente che possa essere utilizzata anche a compensazione delle minusvalenze potrebbe fondamentalmente andare a consultare questo prodotto o gli altri della serie con appunto l'obiettivo di rendimento appunto di incassare un rendimento cosa si può fare allora una volta acquistato il prodotto una volta acquistato il prodotto Valentina che tendenzialmente questi prodotti nascono o vengono utilizzati dal cliente dalla clientela per recupero delle minusvalenze e solitamente vengono recuperate vengono un ragionamento del genere viene fatto a fine anno fiscale quindi alla fine dell'anno quindi tendenzialmente tra novembre e dicembre 2023 perché sappiamo le minusvalenze hanno una durata del anno in cui vengono generate più i quattro successivi il certificato è un certificato è un prodotto finanziario fiscalmente efficiente in quanto permette di compensare i proventi derivanti dalla negoziazione dello stesso o dalle cedole con le minusvalenze generate sugli altri prodotti finanziari questi prodotti come maxi cedola sono utili fondamentalmente per recuperare una buona parte delle minus quindi tendenzialmente la clientela almeno per quello che noi sappiamo sappiamo perché sentiamo ovviamente dato che abbiamo rapporti costanti con la clientela cosa fa? compra il certificato incassa la maxi cedola e ha due strade o due chance in quel caso o rivendere il certificato subito e quindi posticipare di quattro anni in avanti la minusvalenza che ha in portafoglio oppure continuare a tenere in portafoglio il prodotto e aspettare l'eventuale autocall dell'emittente in questo caso l'autocall può venire a partire da dicembre 2023 e nel frattempo incassare quelli che sono i premi incondizionati che potranno essere pagati trimestralmente e che sono pari all'1% trimestrale quindi diciamo è un mix di strategie poi ovviamente è sempre il cliente che prende la decisione finale quindi su come utilizzare la fine esatto su come utilizzare il tutto però ecco anche in questo caso brochure pubblicata nella parte in basso della pagina quindi chi o chi fosse interessato a consultare gli ulteriori esatto gli ulteriori panieri su cui noi abbiamo strutturato accedendo al link potrà fondamentalmente verificare quelli che sono i panieri e tutte le caratteristiche del nostro prodotto benissimo ecco interessante molto sui diversi usi poi dei certificati le diverse finalità questo prodotto che abbiamo visto ha lo scopo soprattutto del recupero delle minusvalenze come ci hai spiegato e invece ecco qual è la finalità del terzo prodotto che ci presenti Riccardo questo cash collector back worst of auto callable su un paniere composto di azioni che adesso andiamo a vedere naturalmente sì allora io ne ho portati tanti poi ovviamente si fa quel che si può si cerca più o meno di andare a spiegare le caratteristiche di tutti è un prodotto un po' più semplice rispetto agli altri in quanto è un fixed cash collect che paga una cedola mensile dello 0,45% e lo vediamo lì indipendentemente dall'andamento dei sottostanti quali sono le caratteristiche Valentina? allora è un prodotto molto protettivo perché? perché ha intanto un coupon incondizionato ha una scadenza ha una maturity a marzo 2026 come si legge nelle caratteristiche del prodotto può essere richiamato in anticipo qualora a partire da dicembre 2023 tutti i sottostanti dovessero trovarsi al di sopra di quello che è il trigger level per il richiamo anticipato però perché diciamo che è molto protettivo o abbastanza protettivo perché questo prevede un airbag l'airbag cos'è? l'airbag è quando si attiva cos'è? quando si attiva l'airbag è un fattore già un po' il concetto di airbag comunque lo conosciamo ovviamente applicato soprattutto all'automobile direi che per quanto riguarda la protezione possiamo traslare il concetto anche sui certificates assolutamente sì e si può traslare il concetto diciamo l'esempio è assolutamente calzante l'automobile quando si attiva l'airbag quando c'è una sorta di crash quindi quando c'è un incidente quando si verifica un incidente con i certificati quando giunti a scadenza uno dei sottostanti si trova al di sotto di quello che è la sua barriera di protezione quindi chiamiamolo il muro quindi qualora il sottostante peggiore dovesse trovarsi al di sotto di questo muro comunque dovesse andare a sbattere contro il muro che è la barriera di protezione allora in quel caso si attiva l'airbag ok? chiarissimo molto semplice cosa fa l'airbag? l'airbag allora qualora il sottostante peggiore dovesse trovarsi a di sotto della barriera di protezione tendenzialmente in tutti i certificati si verifica un rimborso lineare tanto più è sceso il sottostante tanto più bassa ovviamente è il rimborso con l'airbag invece il rimborso non è più lineare ma viene questo valore di rimborso viene aumentato di quello che è il fattore airbag quindi c'è un calcoletto una formuletta molto semplice che è sempre descritta o all'interno del kid o all'interno una brochure quindi chi volesse andare a consultare le formulette ha a disposizione varie strade paniere è un paniere diciamo in questo caso mixato sempre pezzi da 90 sempre pezzi da 90 esatto è un paniere mixato e come vedi qui gli emittenti possono far cosa? possono creare dei panieri che sono o correlati o decorrelati ovviamente quando un paniere è decorrelato vuol dire che le azioni non si muovono in modo unisono o simultaneo ovviamente il rendimento è maggiore in questo caso abbiamo Enel Eni Leonardo e Stellantis e come questo ce ne sono anche altre tanti stesse caratteristiche stessa difensività e stesse diciamo tipologie di cedole incondizionate mensili chiarissimo abbiamo detto questo prodotto che ha una finalità prevalentemente difensiva proprio per la presenza dell'airbag che ci hai spiegato benissimo e invece passiamo all'ultimo prodotto di questa settimana che si allontana dal paniere di azioni per andare invece a focalizzarsi su un titolo in particolare e parliamo di un cash collect su Enel esatto cash collect su Enel questo molto semplice come prodotto è un cash collect della tipologia fixed significa che è un prodotto che paga dalle cedole in questo caso mensili incondizionati indipendentemente dall'andamento dell'azione barriera profondissima una barriera posta al 40% del fixing iniziale cioè significa una barriera che è in grado di assorbire un 60% di drawdown dell'azione Enel diciamo si vede dai grafici ovviamente non parliamo di qualcosa di non noto ma Enel è un titolo che quest'anno è stato abbastanza in debolezza è riuscito a recuperare i 6 euro qualche giorno fa ma ora è nuovamente intorno ai 5 euro e 70 quindi diciamo che chi può consultare questo prodotto può consultare questo prodotto e l'investitore che anziché andare direttamente su sottostante perché ha paura che rimanga debolezza vuole comunque diciamo investire sul settore e comunque gradisce farlo con una protezione in più esatto gradisce farlo con il titolo Enel perché è interessante perché ovviamente è un prodotto interessante diciamo interessante per chi ovviamente ha una view di questo tipo un prodotto che paga uno 0,35 mensile ha una barriera di protezione posta al 40% quindi in grado di assorbire un calo dell'azione del 60% è una barriera ovviamente europea che si attiva esclusivamente a scadenza e grazie al payoff asimmetrico quindi payoff asimmetrico è quella situazione che permette al certificato di offrire un rendimento positivo in tre scenari lateralità del sottostante rialzo e moderato ribasso grazie al payoff asimmetrico ovviamente è un prodotto che è in grado di permettere all'investitore di ottenere un payoff positivo anche in grado di anche in situazioni di negatività appunto del sottostante